studionovetv.com E anche il 2017 ha visto risuonare nella splendida cornice della chiesa trecentesca dedicata a San Francesco d'Assisi, ora Basilica Santuario San Francesco Antonio Fasani, le melodiose e ricche note del tradizionale concerto di Natale offerto alla città di Lucera dalla corale Santa Cecilia Don Edoardo di Giovine. Così martedì 26 dicembre, presentato dal professor Mario Tibelli, presidente della stessa corale, il concerto ha portato con sé un messaggio ben preciso, quello della pace da costruire grazie anche alla musica. Per favore, partiamo, siamo sempre presenti con la nostra mente e autonomi nelle nostre decisioni. Certo, facciamo parte della comunità, bisogna partecipare a delle decisioni comuni, ma attenzione, quando si parla di pace, il gioco è una grande risorsa della nostra comunità. Noi stasera vogliamo augurare a tutti voi e a tutti voi, a tutti voi, a tutti voi, a tutti voi e a tutti voi, a tutti voi, a tutti voi, a tutti voi, un mondo di pace, un mondo pieno di speranza, un mondo pieno di luce. Vi abbracciamo attraverso la musica e il canto. Buon ascolto e auguri a tutti voi. Diretta da Pasquale Michele Ieluzzi, la corale ha proposto la parte iniziale del concerto con il coro delle voci bianche che si è esibito in alcuni brani, tra cui il siciliano alla notti di Natale. La corale, sostenuta dai suoni e dalla musica dell'orchestra da camera Cappella Federiciana, ha presentato il suo programma, segnaliamo lo spiritual Down by the Riverside, che è un inno contro la guerra. La corale, sostenuta dai suoni e dalla musica dell'orchestra da camera Cappella, ha presentato il suo programma, segnaliamo il suo programma, segnaliamo il suo programma, segnaliamo il suo programma, segnaliamo il suo programma. La corale, sostenuta dai suoni e dalla musica dell'orchestra da camera. L'elaborazione musicale del maestro Berardi di alcuni testi di Sant'Alfonso dei Liquori sul Natale. L'elaborazione musicale del maestro Berardi di alcuni testi di Sant'Alfonso dei Liquori. Dal tuo stellato soglio, dal Mosè di Gioacchino Rossini con le voci soliste di Anna Rita di Giovine Ardito, Giovanni Sant'Angelo e Michele Ieluzzi. L'elaborazione musicale del maestro Berardi di alcuni testi di Sant'Alfonso dei Liquori. L'elaborazione musicale del maestro Berardi di alcuni testi di Sant'Alfonso dei Liquori. Riccardo Tibelli e Armando Autullo. Cantare e suonare il Natale sono elementi fondamentali di questa festa così bella e significativa. La corale Santa Cecilia Don Edoardo di Giovine l'ho fatta a 75 anni. Auguri! Grazie. Grazie a tutti.